Veramente è una cosa nuova per la nostra città e della prima volta e io devo dire che sono orgogliosa di questo perché nessuno che è stato interpellato si è tirato indietro, quindi è veramente una giornata particolare che ci riempie assolutamente di orgoglio perché in questo modo abbiamo la possibilità di dire che quando questa macchina girerà per le vie della città sarà riconosciuta da tutti e tutti quanti penseranno che i cittadini, le persone che lavorano in questa comunità hanno dato un contributo per la realizzazione del progetto. Parole dell'assessore comunale Tifernate Bassini che così ha commentato la cerimonia di stamattina in Largo Gildoni nella quale eventi sociali SRL di Arezzo ha donato al comitato di città di Castello della Croce Rossa italiana un automezzo allestito per il trasporto di persone diversamente abili o in carrozzina munito di defibrillatore semi-automatico acquistato grazie al contributo economico di oltre 60 privati la cui immagine grafica o il cui nome campeggiano sulla carrozzeria del veicolo. Insieme all'assessore Bassini hanno preso parte all'iniziativa anche il sindaco di San Giustino Paolo Fratini e il consigliere comunale Gilberto Presenti rappresentanza del comune di Citerna dai cui territori sono venuti parte dei contributi economici per l'iniziativa. Presente anche il presidente del comitato Tifernate della Croce Rossa Tifernate Francesco Serafini e il presidente di eventi sociali Enzo Maggini i rappresentanti delle istituzioni e delle aziende coinvolte nell'iniziativa e delle comunità religiose cittadine una sinergia territoriale significativa che sul fronte del sociale garantirà un servizio nuovo per il territorio Tifernate e Alto Tiberino Grazie a tutti